Quarantesima mostra del Prosecco di OCG, una tradizione e anche delle novità. Iniziamo dalla tradizione della mostra. La nostra tradizione, chiaramente siamo arrivati a 40 edizioni e siamo orgogliosi di questo traguardo. 40 edizioni vuol dire essere ormai maturi nel nostro lavoro che è quello di far conoscere il territorio, di promuovere il suo prodotto principe che è il Conegliano Valdobbiadene di OCG. Quindi per noi avere qui l'opportunità di far conoscere le rive di Colbertale Vidor è sempre una bella opportunità. Siamo contenti di avere sempre una buona affluenza di persone che vengono a trovarci. Il nostro scopo come produttori è quello di comunicare, spiegare, fare cultura intorno al vino e dare un'esperienza a tutte le persone che arrivano in modo che il loro ricordo di questo territorio sia sempre il modo migliore di ricordarsi questa terra e il suo prodotto. Allora noi siamo una situazione ludico-sportiva. Noi abbiamo una mission che è quella di correre e portare alla corsa più persone possibili. Secondo noi è la soluzione di molti problemi. Il giorno d'oggi vediamo dei giovani che non fanno sport come una volta e noi cerchiamo di impegnarci per portarli. Andiamo sulle scuole, andiamo sia medie che elementari e cerchiamo di accompagnare questi ragazzi a scoprire la corsa. Ci piace soprattutto il connubio oggi con la mostra perché comunque la nostra filosofia è di correre nei vigneti, nelle colline e il connubio con i produttori era da fare perché comunque sono loro che ci permettono di visitare i luoghi che abbiamo portato questa mattina, le persone che tagliano l'erba, sfalciano e comunque permettono ad altre persone di andare a vedere questi luoghi che sono meravigliosi. L'abbiamo fatto soprattutto per permettere poi l'organizzazione della nostra corsa che è la corsa del Cicamino che svolgerà il 29 settembre. Oggi era una presentazione del percorso a persone che di solito non vengono e quindi ci ha fatto molto piacere nonostante che il tempo non ci abbia aiutato. Quindi un sodalizio vino sport. Come è nata l'idea? L'idea appunto, come diceva Manuel, l'idea di correre quindi di fare delle attività ma per noi l'idea è quella di fare promozione del territorio le due cose insieme vanno a braccetto perché correre all'interno del nostro territorio fa parte di quell'esperienza da far vivere alle persone. Chi viene a conoscere le nostre colline passeggiando, correndo o semplicemente visitandole con calma può veramente scoprire che questo territorio è unico, è diverso si distingue all'interno del grande mondo del Prosecco perché con Egliano Valdobiadene e noi con orgoglio presentiamo le ride che sono quelle di Colbertaldo e Vidor sono speciali, sono particolari e appunto il modo migliore per chi fa sport e quindi ha una sensibilità particolare e unica di portarli a visitare le nostre colline così dall'interno è proprio un'esperienza e siamo sicuri che un sodalizio del genere può solo aiutare tutte e due le associazioni a noi perché portiamo qui le persone e per loro perché diffondono il loro messaggio.